Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale I fatti del Friuli Occidentale in primo piano. In apertura un importante accordo sottoscritto oggi all'aeroporto Pagliano e Gori di Aviano tra la base e il territorio per il reciproco sostegno in caso di emergenza in ambito sanitario e non solo. Una collaborazione sempre più stretta tra soccorritori italiani e americani. Nella base di Aviano è stato sottoscritto un accordo che prevede il coordinamento tra il comando aeroporto di Aviano, il 31esimo Fighter Wing e i servizi di emergenza locali per garantire senza ritardi l'accesso dei mezzi di soccorso e il tempestivo raggiungimento del luogo dell'evento in caso di emergenza. Quello che ci serviva era un piano che coordinasse in maniera sinergica tutte le risorse che vengono utilizzate in risposta alle emergenze. Le emergenze stiamo parlando interno ed esterno a base o comunque che hanno a che fare con l'aeroporto di Aviano. Ci eravamo accorti che le risorse, quindi parlo di ambulanze, vigili del fuoco, forze dell'ordine, venivano gestite non in maniera sinergica, quindi vi era o l'intervento di più unità oppure doveva aspettare, ci si doveva aspettare per un tempo prolungato l'intervento di qualcuno. I mezzi e le risorse sono molteplici e di diverso tipo, di diversa entità, stiamo parlando di alcuni mezzi di vigili del fuoco, di alcuni mezzi tipo ambulanze e quindi soccorso sanitario. Questo piano è sicuramente molto importante per assicurare la tempestività dei soccorsi sia del personale italiano che di quello statunitense all'interno della base. Un'arma in più per la sala operativa di emergenza sanitaria della nostra regione. Cerchiamo di dare una procedura ordinata, un lavoro che potrà essere svolto in collaborazione con tutte le forze che sono presenti dentro il sistema dell'aerobase e quindi la possibilità di utilizzare il nostro 112 con le chiamate che riguardano gli aspetti sanitari, gli aspetti di sicurezza, dove le forze, il coordinamento governato del 112 sia in termini di emergenza sanitaria che per altre ragioni può essere attivato per condizioni che si possono verificare. Dalla sicurezza all'economia, nuove opportunità per le aziende italiane in Cina, in particolare nella provincia del Sichuan. Questo il tema del convegno svolto ieri sera in Camera di Commercio a Pordenone. Internazionalizzare la propria impresa è questa la prospettiva che la Fondazione Progetto Italia Cina offre agli imprenditori italiani. Numerosi sono gli incentivi infatti che la regione del Sichuan nella Cina del Sud è pronta a mettere al servizio delle piccole e medie imprese. La Cina è sempre stato un mercato complesso, per cui la difficoltà che hanno sempre avuto le aziende italiane è stata di affrontare un paese con una lingua diversa, con culture diverse e anche proprio con dinamiche politiche, socio-economiche radicalmente diverse dalle nostre. In questa ottica tutte le informazioni che uno riesce ad avere prima di intraprendere questo viaggio sono assolutamente utili. La novità è che non derivano queste informazioni da un ente intermedio, ma derivano da un'associazione cinese. Come sempre tutte le informazioni più valide sono e meno sono mediate, più sono importanti. lo Sichuan è questa regione della Cina che sembra che ci viene presentata come particolarmente ordinata e accogliente. La volontà della fondazione è quella di inaugurare partnership significative con aziende italiane del settore nell'ottica di un miglioramento reciproco in termini di sviluppo ed espansione del mercato. Noi vogliamo tramite questo meccanismo presente in Italia, che è a Verola e Milano, di aiutare e assistere le imprese italiane, soprattutto nel settore di manifatturiero high-end, nel settore di agricolo, nel settore di green economy e nel settore anche del sistema sanitario di lavorare meglio nel mercato cilese, in particolare di dargli sostegno con la nostra rete e conoscenza dei nostri soci industriali cinesi. Abbiamo fatto anche un primo accordo tra la provincia del Sichuan e con l'Italia, su cui noi abbiamo appena cominciato a fare una serie di progetti, sia con la parte della vostra istituzione, ma anche con le vostre aziende italiane nel territorio, anche la regione Friu di Venezia Giulia. Il Comune di Pordenone punta deciso sullo sport e sostiene le associazioni della città con fondi importanti. Comune in prima linea per sostenere il mondo dello sport pordenonese. La Giunta Ciriani ha infatti assegnato 174 mila euro a 64 associazioni per finanziare le manifestazioni e le attività sportive organizzate in città. Si va dalle arti marziali al pattinaggio, dagli sport di squadra al nuoto, dalla scherma alla ginnastica artistica e tante altre discipline sportive. Il Sindaco Alessandro Ciriani. Aiutare il mondo dello sport significa aiutare un contesto in cui crescono i valori, valori di integrazione, valori di divertimento, valori di salute e queste parole non possono eccheggiare solamente nei seminari, nei convegni o nei saluti ufficiali, occorre essere coerenti. Noi vogliamo dare una mano alle tante associazioni che si basano sul volontariato sportivo, che tengono i nostri figli in ambienti sicuri e consentono a chi ha talento di poter crescere ma fanno divertire e giocare migliaia di ragazzi. Io dico sempre che dare dei soldi a questa realtà non significa fare una spesa ma fare un investimento, in particolare fare un investimento sul futuro dei nostri ragazzi. Le risorse sono state reperite grazie all'impegno di Walter De Bortoli. L'assessore comunale allo sport sottolinea anche un altro aspetto. Continuo a ribadire però che non sono sufficienti, seppur con lo sforzo del comune, il nostro sindaco che è stato molto attento al mondo sportivo, non sono sufficienti per sopperire il gap che c'è con la soppressione della provincia. Adesso mi auguro che la regione faccia la parte che è mancante. Ce l'auguriamo. Io ho incontrato l'assessore regionale Gibelli, mi è parsa molto attenta all'esigenza. Voltiamo pagina con una curiosità. Che aspetto aveva Sofia, l'ultima contessa di Prata di Pordenone vissuta nel 1400 in Croazia? Oggi è possibile saperlo attraverso la ricostruzione del volto e delle sue fattezze fisiche. Il 22 novembre a Trieste i suoi resti, rinvenuti nel monastero croato di Moslavazka Goram, saranno sottoposti a una serie di indagini che porteranno alla ricostruzione dei tratti facciali, allo studio di eventuali malattie che avessero lasciato traccia nello scheletro e allo studio delle superfici masticatori dei denti, per cercare di capire le categorie di elementi che venivano serviti alla sua tavola. Restiamo nell'Alto Olivenza. Una castagnata solidale per aiutare i comuni gravemente colpiti dal maltempo è stata organizzata dalla Protezione Civile di Sacile, in collaborazione con l'amministrazione comunale e varie aziende del territorio. L'appuntamento è per domani dalle 17 in Piazza del Popolo. Siamo allo sport e domenica il Pordenone farà visita al Monza di Silvio Berlusconi. Oggi, alla presentazione della partnership tra Aramarri e lo Smart Moda di Viale Venezia, abbiamo sentito il presidente Mauro Lovisa. L'abito non fa il monaco, magari non fa neanche il calciatore, però in questo caso vestirsi bene aiuta, Smart Moda vi dà una mano in questo. Ormai stiamo vedendo un po' a tutti i livelli, addirittura sta lanciando anche delle mode attraverso le squadre professionistiche, quindi anche noi cerchiamo di migliorare, dicevo prima, quello che è l'aspetto delle immagini della società ed è importante poi trovare un partner così, che sia coinvolgente del territorio e soprattutto magari un partner di qualità. Abbiamo migliorato su tutti i campi, vogliamo migliorare anche su questo. Parliamo un po' di campionato, partenza super, adesso un po' di rallentamento, ma c'è da preoccuparsi o no? No, l'ho già detto nei giorni scorsi, se vediamo nelle prestazioni, io che dopo l'ho vista tutta, però il calcio è questo, gli episodi in questo momento ti danno contro, c'è sempre un perché e quindi bisogna analizzarli con calma, però continuare a fare questo tipo di prestazione, alzando secondo me l'attenzione negli episodi, soprattutto nei calci da fermo, sulle situazioni un po' dove c'è più di reparto nelle giocate singole. Dobbiamo stare attenti su queste cose, però l'atteggiamento deve essere questo. Domenica a Monza, squadra di Berlusconi, spera di incontrarlo? Benvengano questi personaggi in Lega Pro, perché danno lustro e se lo incontrano lo sottotterà volentieri. Anche perché intanto l'Oviso gli sta davanti. Intanto siamo davanti, ma noi dobbiamo recuperare, che è importante, perché adesso in questo momento siamo in credito sotto quello che abbiamo raccolto, meno di quello che abbiamo seminato. Era l'ultima notizia per stasera, adesso vi lascio in compagnia di Alexis Sabot e le Proloco che si sfidano nel quiz, lo sapevo. L'appuntamento con il telegiornale di Pordenone torna lunedì alle 20.45. Grazie per essere stati con noi e buon weekend. Grazie a tutti.